Crudelia 4 Domanda, voi fate 4 così o 4 così? Non riesco a crederci Quel pulciusetto di un botolo è arrivato fin quando Pulciusetto di un botolo Bla bla Come le piace aprire bocca e ascoltarsi Ma il karma canino si è esaurito Il mio cannone al superplexi decreterà la tua fine Col botolo attiva la pompa del circuito superplexi Fatto crudelia Senza neanche muovere la bocca Sarà meglio fare come ha detto fanfulla e disattivare al più presto i computer Sì, come? Forse devo mettermi qua Cioè questi sono i computer magari Ti giuro Ah Sul cretino Ho capito adesso quali sono i computer I computer sono quelli Io stavo sparando a lei Ti giuro non capivo Allora, dov'è? Ah, è scritto Allora, l'ho capito adesso È scritto Qua sul pavimento Dov'è? Ok, in realtà è stata molto facile Infatti abbiamo lasciato indietro solo un computer Eccolo qua Per fortuna era vicino a noi Fatto Chi ha in mente il sacchetto di pulci? Non importa Tanto sta per diventare un soprammobile Ahah Certo Ok Ora dobbiamo uccidere robottino Molto Mi viene crash bash come canzone questa Stupido Faccia robò Mi ricorda anche un po' la musica di Futurama Aia Ok Ok, allora Ho capito che se ti colpisce subito Lo scudo Cioè il macchinino qui Si rompe immediatamente Se però Attivi lo scudo Hai più tempo Per fortuna che continua a girare sempre attorno a noi Sto cosa Dai che ci manca È che Finché il colpo di Crudelia lo vedo È un conto Ma quello del robot non lo vedo mai Perché si confonde con lo scudo È tutto lo stesso colore Ecco fatto Smettila Brutta bestiaccia Smettila Eh, ma va Ho un brutto presentimento Scendi da lì allora Ah, adesso le palle elettriche Dobbiamo tirare giù Non vedo la terza Eccola Un altro computer è andato Quel cagnaccio non sta fermo un attimo Era una palla elettrica Vabbè La danza sfrenata disponibile Perché tanto Oh no Nel super plexi No 91% E scusami Ma gli altri due cuccioli Che ci mancano Io ho fatto il conto Ci mancano due cuccioli Aiuto Qualcuno Mi tiri fuori Detto lì Mi salvo io Eh, e si butta di dentro pure lui Quanto ci fai Diamogli il ben servito Domino Che bella scena Sei un imbecile È un coglione Capace Un imbranato Grottesco E farfogliante Andiamo a cercare mamma e papà Babababababababab Anche se non c'è più Io sento ancora l'odore Di quella crudelia Vabbè È come il pepe Eccu Non preoccuparti Dotti I cuccioli sono tutti in salvo E la polizia metterà quella strega In condizione Eh ma speriamo E ora torniamo a casa Voleva mettere sotto vuoto dei cani Bene amici Mi sembra il momento di rendersi irreperibili Uè Detesto la linea d'abbigliamento carcerario Da Nascondiamoci Sta arrivando qualcuno I tirapiedi boh Crudelia in teoria è in carcere Brutto fesso Per quanto tempo ancora Dovremmo restare incollati così Una ventina d'anni Mia adorata Sempre meno degli anni Da scontare in carcere Vabbè No Cristo Che fine di merda Vabbè Allora è andata bene Mi sembra no A parte lo skybox nero ai lati Certo che è stato un viaggio Ma La mappa Vabbè guarda Ma è la trama di Madata Scar 1 Questa Ma poi come ci sono finiti lì Ma scusami A caso Le scatole di giocattoli Su una cazzo di isola dispersa Ma Fa la breakdance il cane Capoprogrammatori Vabbè Nuvola Aspetta ma mi fai vedere Tutti quanti i cani Tutti 101 Ah no mi fa vedere solo i personaggi Interessanti Crudelia Adesso voglio vederli tutti Orazio Devo dire che comunque Per essere stato un gioco PS1 Di una certa età comunque Mi ha sorpreso comunque Appunto per la sua Interezza È fatto molto meglio Di quanto mi potessi aspettare Da un gioco del genere Le pelote Poi ovvio che Stiamo parlando Come ho detto Più e più 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 di una volta Più di una volta Questo era il periodo dorato Dei giochi appunto PS1 PS2 Dei giochi Disney Dreamworks E simili Fino ad arrivare Alla PS2 Ancora C'era Una speranza Diciamo C'era Quella bella sensazione Che il gioco Basato sul film O sul cartone Che ti piaceva Potesse essere bello Mentre adesso Se esce un gioco Basato su un cartone Sai già che sarà Una mezza porcata O comunque Una bambinata Di sicuro Un gioco del genere Le foglie dell'imperatore O un crash Al tempo Erano sicuramente Adatti Non solo per un pubblico Bambino Ma per un pubblico Anche molto adulto Eccolo qua Garibaldi Ringraziamenti speciali Pure Ma il topolino Ma dai Detto questo Comunque Essendo stato Il gioco preferito Della mia ragazza Capisco anche Il perché Non ho mai avuto Modo di poterci Giocare da bambino Perché non lo conoscevo Neanche E devo essere sincero È stato Uno un bel acquisto E sicuramente Una bella esperienza Abbiamo giocato Nettamente Di peggio Per veramente Molto più tempo E questo Per una ventina Di livelli Non mi è per nulla Dispiaciuto Anzi 20 livelli Tutti Fatti bene Non al livello Delle foglie Dell'imperatore Ma ottimi Fine Però scusami Sono curioso Un attimo Prima di salutarci Di vedere tutta la lista Dei cani Se c'è Al 91% Perché ovviamente Abbiamo mancato Degli ossi Eh si Tutti i livelli Avevano 6 cani Eh infatti Io I cani Li abbiamo tutti Ok no Non penso ci siano Cani da salvare All'interno Dei minigiochi E questo È l'album Delle figurine Ah Ogni livello Aveva Delle figurine E ovviamente Se tu completi Il livello 100% Tieni sempre più figurine Ho capito Sì Avevo ragione 20 livelli Di cui 16 Sono appunto Giocabili Da trovare Gli oggetti 6 cani A livello Sono 96 Più i 2 cani Che abbiamo noi Per giocare Sono 98 Più 2 cani Che sono i genitori Fanno 100 Mancano 2 cani Vabbè Diamo per scontato Che i 2 cani Mancanti Siano questi 2 Davanti alla televisione Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito Avete seguito Ringrazio la mia ragazza Per avermi fatto conoscere Questo gioco Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo A una prossima serie Ciao a tutti Ciao a tutti